Le riforme delle liste ridotte a 22 elementi per la prossima stagione di Lega Pro sta generando grande malcontento tra i club con possibilità di inserire come ventitresimo un elenco un calciatore professionista solo se nato dopo l'1 gennaio 2001. Tra le società costrette a lavorare in prospettiva c'è il Bari che ai nastri di partenza della stagione 2020-21 si presenta con 24 giocatori di proprietà più il giovane portiere Liso. Salutati per fine prestito Pinto, Laribi e Costantino il club bianco-rosso attende il rientro alla base di Neglia, Bolzoni, Nannini, Esposito e Cupis, quest'ultimo ancora impegnato con il Trapani in Serie B. Un patrimonio, quello dei giocatori sotto contratto da cui ripartire ma anche un dato con cui fare i conti in vista di una sessione di mercato destinata a durare poche settimane con il campionato di C al V e il 27 settembre. 8 sono i tesserati bianco-rossi con un altro anno di contratto, ben 13 hanno ancora due anni di accordo e 3 hanno un legame fino a giugno 2023. Della lista di giocatori legati al Bari fino al 30 giugno 2021 fanno parte di Cesare Ciofani, la cui permanenza in rosa non sembra in discussione. Neglie e Bolzoni hanno mercato in C, Esposito e destinato a nuovo prestito, mentre il trio Costa-Dursi-Foloruncio, di proprietà del Napoli e in prestito biennale al Bari, non sembra avere grandi possibilità di rimanere in organico. Discorso a parte per Simone Simeri con 11 reti, il centravanti ha meritato un prolungamento del contratto di un anno che la società sta discutendo con il suo entourage. Andrebbe in scadenza nel 2022 come Bianco e Amlili, i cui contratti sono stati rinnovati poco prima del lockdown. Andrebbe in scadenza nel 2022 come Bianco e Amlili, i cui contratti sono stati rinnovati poco prima del lockdown. Stesso esito per i contratti di Antenucci e Frattali, con 23 reti il centravanti ex Spalla ha dimostrato di poter far parte da protagonista del reparto avanzato, mentre il portiere ha 35 anni e apprezzato per la sua esperienza, ma il suo futuro è legato anche al progetto che verrà. In tal senso in queste ore sono in programma nuovi contatti con mister Vincenzo Vivarini, confermato a voce dalla dirigenza, ma alla ricerca di intese tecniche chiare per l'annata che verrà. Dalla conferma di Vivarini dipende quella di alcuni calciatori che non hanno mostrato costanza di rendimento, da Terranea a Schiavone fino a Scavone, Maita, Corsinelli, Berra e Perrotta. Gli ultimi due dell'elenco, a differenza degli altri, hanno un contratto fino al 2023 alla pari di Sabbione, una delle certezze per il futuro. Tante valutazioni, poche settimane per farle. La stagione 2020-21 del Bari è già partita.